Non credo in niente E' un film originale basato sulle sensazioni di ragazzi di una generazione che appunto è la mia, che ho vissuto io, racconta quello che questi ragazzi hanno sentito nel corso degli ultimi 10-15 anni di questo mondo occidentale. Ho voluto fare questo film in questa maniera frammentaria, poiché nasce tutto da lì, perché quello che volevo raccontare non ha una forma ben definita, volevo che anche la forma narrativa del film restituisse questa sensazione. Quale è stata la difficoltà produttiva maggiore? Dunque, tra le varie difficoltà diciamo lo scoglio maggiore è stato quello di non aver avuto un sostegno economico importante ma alla fine è stata la forza. E' stata la nostra forza questo grande scoglio. C'è stato un periodo di riprese di 12 notti in tre scaglioni. Settembre 2021, settembre 2020, maggio 2021, giugno 2021 è un anno di post-produzione. Siamo riusciti a creare quest'opera creando un gruppo fedele, unito, che ha combattuto e siamo riusciti a creare un'opera che ha tutte le carte regola per avere un percorso distributivo che può essere competitivo a modo suo. L'essandro, uno dei punti di forza è il cast che hanno un collettivo. Come l'hai messo insieme? Vivo a Roma e frequento i luoghi centrali del cinema di Roma da dieci anni, quindi conoscevo tanti attori della mia generazione, appunto è un film generazionale. E quindi quando ho deciso di fare il film ho cercato di capire tra gli attori che conoscevo chi potesse andare bene, per quale ruolo. Ma in realtà poi ho cercato più di trovare la persona più che l'attore. E una volta trovata la persona, in realtà poi la persona stessa ha ispirato il personaggio. Quindi il film è un film basato sugli attori, basato sulla recitazione nel senso di lasciare spazio all'attore di poter esprimere quello che sente riguardo a quella che è la tematica del film. Esteticamente non è più riferimento preciso? Sì e no. È chiaro che il primo riferimento, come ho già detto tante altre volte, viene da Cina orientale, da Wong Kar Wai, a quale mi ci sono avvicinato con il mio ultimo corto che ho girato in Cina. Ma anche tanti altri. Penso che tutto quello che ho visto, anche inconsciamente, poi l'ho buttato dentro in questo film. Come ha detto che l'ha fatto vederlo a pensare o a fare la prima volta sullo schermo? Beh, lì dopo tutte le fatiche, ecco, ritorniamo a parlare delle fatiche, tutte le problematiche che ci sono, si scorda tutto. Si scorda tutto quando vediamo l'opera proiettata e i riscontri e le risposte. È una grande emozione, ma la grande emozione sarà ancora più bella vedere le sale, speriamo, piene. Mi ha fatto un grande effetto anche perché abbiamo fatto vedere tante volte il film prima della presentazione di Pesaro in contesti più contenuti, con poche persone. Invece farlo vedere e guardarlo con un pubblico, diciamo, ampio, 300-400 persone, tutto viene amplificato. Insomma, si guarda insieme, come è normale per qualsiasi film. Quindi è stato emozionante.